un pianoforte il nuovo pianoforte Geva ma non è una novità il marchio ma è una novità il pianoforte mi sembra molto bello guarda qui c'ha il volume e dei tasti funzione molto bello si chiude? si si apre anche quando lei chiude che bello ha il suo coso la caratteristica di questo è proprio il fatto che è costruito in Germania e c'è campionato il suono Stainway questa è la differenza fra tutti la differenza è proprio il campionamento cioè il fatto che sia uno Stainway ed è proprietario di questo pianoforte qua cioè loro hanno acquistato diritto no non è la Stainway Geva ha avuto l'autorizzazione della Stainway di usare il suono e di registrare i suono Stainway montiamole proviamolo si si non ci resta che ascoltarla esattamente perché la tastiera è buona mi sembra meccanicamente e anche il fatto che sia costruito in Germania è un plus indice di garanzia indice di garanzia siamo qua in Europa e sentiamo finalmente il Db 345 che spartella esteticamente molto bello è un classicone un classicone però fatto e le rifiniture sono sono molto belle anche un discreto volume il suono è buono allora ricordiamo che è lo Stainway questo è il suono dello Stainway bene qualcosa amici abbiamo sentito di questo pianoforte nuovo della Geva DP 345 non ci resta che darci appuntamento qui nel nostro store per venire a scoprire le altre funzioni gli altri suoni di questo interessantissimo pianoforte con un prezzo altrettanto interessante vi aspettiamo un saluto a tutti